salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale sono vestito come l'altra volta perché il terzo video di fila che stiamo registrando incredibilmente l'intesa c'è l'italia anche perché siamo ai quarti di finale di questo europeo come l'italia reale non so se incontreremo la germania tra l'altro scusa che non t'ho ancora presentato saluta i nostri saluti sono un po sempre problematici diciamocelo si 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 anche perché ormai ti ho per scontato che sanno che ci sei però in realtà non è così perché è solo il terzo video che registriamo roba da nulla comunque volate sul canale di camp perché il 30 oltre ad essere uscito il video del del girone qui sul mio canale è uscito appunto l'ottavo di finale dove abbiamo trovato la francia ed è stato un partitone e lo so però bombe non è possibile la spagna si può fare dai vai va bene dai poi spiegherai perché si 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 ricomincia bravissimo 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 bene insigne 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 non ci credo non è possibile ma ti pare che salti ramos con la veronica e poi ti fai il penutizzare così dal portiere non è possibile buonissima sta palla che bella vai fermiano al centro zazza mettigliela subito troppo troppo no però eh occhio che siamo uno solo dietro la recuperiamo la recuperiamo si però zitto ah che vengono lì in spagna ah che vengono il corpo no vabbè cos'è eh vabbè sono tutti fantasmi sai perchè sono fantasmi no lo sarà difficile quindi ci complichiamo la vita da soli pure noi occhio eh porca troia però c'è non può mancare le scialaui regalato questo eh però che culo di capitale adesso farci i cambi come l'altra volta porta fortuna dai ok sì però sbrighiamoci sbrighiamoci dai ci riparte dai ci a concentrare fallo punizione non l'ha data va benissimo così vabbè vai va benissimo così l'ho visto dentro bella noo dai 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 vai allora vai ciro io non ti metto pressione Vai vai Ciro Che te devo dir Che te devo dir Ciro non puoi sbagliare ste cose Qui 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 Vai da su Rifatti Ciro Mamma mia Abbracciano le distanze subito Eh beh si doveva rifare un po' Ma guarda Scherz chi lo marca ma chi lo marca Non è possibile Ma poi come è entrata sta palla Sempre lì eh Guarda Guarda c'è insigne Lo giaccherini chi è Era insigne Allora non può mancarlo insigne Andiamo a giaccherini che ci crede Pensala bene L'ho pensata rigore Perfondo ti prego fa che non lo batta io Ti prego è tutta la vita Tutta la vita Batti da te Nooo No no vabbè dai Nooo Quante probabilità c'erano Quante probabilità c'erano Pure il rigore no Ok ragioniamola Tira pure in porta Tira pure in porta Goal Sì Goal Goal A sinistra bravissimo Giaccherino Allora Mi rispetto pure da Giaccherino Giaccherino Mettila in mezzo Bellissima C'è Il Sha Il Sha Dietro Perchì Di 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 Oh Svegli Butta la niente Sì Sì Non ci credo Andiamo sempre così Sempre così Sempre così Sempre così Ma Stai un altro ignorante del torneo Mamma mia Sette minuti mancano Sette Questo è per il calcio di rigore Questo call è giusto per il calcio di rigore Poi dove è passata la maglia Ma che miseria Difendiamoci Bomber ultra difensiva E andiamo A casa Spagna A casa Spagna Andatevene a casa Abbiamo vinto due quarti Due Mamma mia Mamma mia Oh ma È giusto così A casa A casa due volte Due volte a casa Ragazzi comunque lasciate un Un grandissimo supporto Sottolasciate un grandissimo supporto Non esiste in italiano Però comunque voi supportate questa serie Come state già facendo Come avete fatto almeno nei primi episodi Adesso non so perché Non abbiamo registrato i tre di fila Ma comunque continuate a farlo Lasciate un botto del like Per questa remontata doppia Perché anche quella contro la Francia Questa è una remontata E dovete vederla Lasciate anche un like Per il gol di parolo Che due episodi fa Però voi lasciatelo nel dubbio E passate dal canale di camp Soprattutto Bravi Perché Perché poi uscirà adesso Non so bene Quando ci saranno le semifinali Ma quando ci saranno le semifinali Uscirà anche Tipo il 6 o il 7 Dovrebbe essere le semifinali Il 6 o il 7 Perfetto Io sto grondando di sudore Perché siamo al 28 giugno Io vado per la doccia Esatto Io pure dovrei Ragazzi Che dire Veramente Grazie per il supporto Che ci state mostrando Adesso però Vi salutiamo Perché è giusto così Dopodomani E quindi lunedì Uscirà lo speciale 10.000 iscritti Che dire Io personalmente vi ringrazio Ma adesso non siamo qui Per parlare di questo Vi saluto Vi do appuntamento Con i prossimi video Vi ricordo di passare Dal canale di Camp In descrizione E bella raga Bella